Il Consorzio Autostrade Siciliane sarà sciolto, nascerà una società per azioni al posto del CAS e al lavoro su questo progetto. Il presidente dell'ente pubblico, Rosario Faraci, che parla di scelta manageriale destinata a una gestione efficiente e agile per governare l'intera rete autostradale in Sicilia, si stanno studiando gli atti per un nuovo soggetto, preposto alla Messina Palermo, alla Messina Catania, alla Siracusa Gela, che dovrebbe assorbire anche le restanti tratti autostradali oggi di pertinenza dell'ANAS. Sin da quando mi sono insediato a presidente del CAS, dichiara Faraci, ho subito compreso che così come è strutturato il Consorzio ha difficoltà a sopperire alle reali esigenze logistico-tecniche della rete autostradale siciliana. Il mio sogno, ha continuato il presidente, è stato sempre quello della creazione di una SPA e in questo senso sto lavorando di concerto con il presidente della regione Crocetta e l'assessore regionale alle infrastrutture Pistorio, interagendo con l'ANAS, che ha subito colto il piano.